Qualcuno delle guide, degli interpreti, anche italiani, lo spiegavano, lo dicevano anche loro, che c'è una possibilità che i Mussolini e Hitler hanno deciso che gli italiani non devono essere prigionieri in questa nazione. I famosi IMMI, cioè sulla divisa che avevi, ci doveva essere scritto IMMI, internati militari italiani. Noi, come già me, sono scritto due maresciali della finanza, Sardagnoli, cioè in quattro e cinque, perché ero in cinquanta, siamo riusciti a non far firmare nessuno, perché mentre loro dicevano vi mandiamo in Italia e poi lì c'è la Monterosa che vi aspetta, che non quella Monterosa non sapevamo neanche, immaginavamo, però non sapevamo che cos'era e sai cosa gli dicevamo noi, non firmiamo ragazzi, perché sul fronte russo ci mancano le forze, ma chi sul dè, loro ci mandano sul fronte russo, hanno firmato nessuno, se no che era il capo, il capo dei campi, il Lagerfurt, che comandava il campo, che gli aveva rabbia una volta, te lo dico in tedesco, dice noi che Morgan Fru, calma e brutta, tride senza il pane, non ce l'ha mica dato il pane per tre giorni.